Un'enorme palestra a cielo aperto, così si presentano le piazze di Ascoli in base dei giovani per la manifestazione Il Cuore dello Sport. Piazza Ringo, Piazza del Popolo, Chiostro di San Francesco, Piazza Ventidio Basso e Largo Crivelli diventano il palcoscenico dell'evento organizzato dall'amministrazione comunale che segna la ripartenza dello sport ascolano. Bella iniziativa per l'amministrazione comunale di Ascoli Piceno, dopo quasi un anno e mezzo di oscurantismo lo sport è tornato in piazza e mi sembra che la partecipazione sia abbastanza qualificata oltre che elevata dal punto di vista quantitativo. Io sono qua invece di insegnante di liceo sportivo Antonio Zini di Ascoli Piceno, sono ragazzi del nostro istituto dell'indirizzo sportivo che collaborano con la realizzazione delle varie attività sportive facendo una sorta di tirocinio rapido sul campo integrando quelli che sono i loro studi. È veramente una bella opportunità e speriamo che da questa occasione si prenda spunto per ripartire in maniera completa sotto tutti i livelli perché i ragazzi hanno un grande bisogno di muoversi, di fare sport. La manifestazione si è rivelata un bel successo, tantissimi visitatori, grande la partecipazione delle associazioni e società sportive alle prese con calcetto, pallavolo, pallacanestro, sport da combattimento, tennis, rugby, ginnastica e ritmica, tiro con l'arco e pattinaggio. Ascoli conferma così la sua leadership nello sport, tra le prime città nel paese per numero di associazioni e tesserati in rapporto alla popolazione. Dopo quasi due anni di un'attività poter promuovere le nostre attività è fondamentale e speriamo di avere in palestra nelle prossime settimane anche grazie a questo momento di pubblicità il ritorno di ragazzi che in questo periodo si sono trovati senza poter esprimere la loro energia. Quindi vi aspettiamo in palestra. Grazie a tutti.